ciao a tutti eccoci allo stand di asus che ieri durante la presentazione ha annunciato diversi prodotti veramente interessanti uno di questi è zenbook flip s che vedete proprio fra le mie mani si tratta di un prodotto molto sottile con la caratteristica chiamandosi flip di girare completamente e essere utilizzato come tablet un po come il yoga di lenovo per esempio la caratteristica principale oltre a questa è la leggerezza e lo spessore guardate come piccolo se dalla parte ci stupisce il peso e le dimensioni anche le caratteristiche sono di primo livello parliamo infatti di processori comunque di intel di settima generazione core i5 e core i7 una dotazione storage che può arrivare fino a un terabyte di ssd in pci express quindi quelli molto veloci la ram può essere di 8 oppure di 16 gigabyte per quanto riguarda le porte troviamo due usb 3.1 type c una la vedete qui è una la vedete da questa parte altra cosa importante il pannello che può arrivare fino a 4k e la qualità così a occhio ovviamente servono dei test ci sembra decisamente buona è veramente un bel display purtroppo non si sa il prezzo di commercializzazione in europa l'abbiamo appena chiesto si è detto che non ce lo danno però sappiamo che durante la presentazione il prezzo ufficiale era di 1099 dollari a partire da ovviamente nella configurazione massima è destinato a salire anche di molto resta il fatto che rimane un prodotto secondo noi molto convincente e sicuramente si offre come alternativa ad altri sistemi e lo vedete molto bello è molto leggero sta nello zaino senza problemi può essere usato come tablet a windows 10 insomma un bel po di cose dimenticavo viene fornita in dotazione anche la penna come succede con altri sistemi due in uno e tablet non ci resta che attendere l'arrivo in italia di questo prodotto per capire finalmente quanto costerà e e e e e e e e Grazie a tutti.